Ciao ragazzi, un video super rapido oggi. In 90 secondi vi mostrerò un set up cheap top down che puoi mettere insieme per filmare foto flat, video unboxing o stop motion. G80, siete pronti? Let's start the countdown! No! Grazie a tutti! Grazie per la visione! Per favore, like e assurda di subscribe per non perdere i miei video futuri. E, e, che la creatività sia con voi! Che cheap setup! Dio che vuole che può fare troppo! Grazie per la visione!